Com'è triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno è un po' più vecchio che non sa con chi parlare. Passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro. Per non essere più solo mi son fatto un burattino. Per avere l'illusione d'essere padre di un bambino che mi tenga compagnia senza d'armi, crattacavi, che non usi la bugia come pane quotidiano e che adesso che son vecchio possa darmi anche una mano. Com'è stato lo sapete, è la storia di Pinocchio, naso lungo e capotondo, che va in giro per il mondo che pretende di pensare e su tutto ragionare. Chi mi dice di ascoltarlo? Chi mi dice di pubirlo? Ma non so che cosa fare, non è facile educare. Lui non vuole andare a scuola, lui non vuole lavorare. Devo dirvi in confidenza che con me non mi dispiace, mi è riuscito proprio bene, più lo vedo e più mi piace.